Una riflessione sulla incichica Fratelli Tutti e coinvolgimento che questa chiede a noi è in estrema sintesi quando si è preposto durante il convegno diocesano la chiesa della Fratelli Tutti che si è tenuto lo scorso 15 giugno al seminario Vescovile di Agrigento. Il convegno ha visto la presenza di padre Francesco Chetta, segretario generale della fondazione Fratelli Tutti organizzato in collaborazione tra la Caritas diocesana Agrigento e Centro per le Comunicazioni e rivolto alla Caritas parrocchiali e a quanti si sono interessati a riflettere sui contenuti dell'enciclica Fratelli Tutti e sul paradigma ecclesiale in essa contenuto. Sì, alla luce della Fratelli Tutti che è l'ultima enciclica del Papa che va a saldare quello che gli Illuministi hanno tradito, che è il principio di fraternità e di umanità. Noi vorremmo ripartire anche come chiesa nello spazio pubblico da queste tre categorie grandi che sono una formazione continua come ha detto il vostro Vescovo che ci aiuti a entrare nelle sfide del mondo con competenze, poi avere partecipazione quindi essere inclusivi, ascoltare tutti e soprattutto ciascuno porti il proprio carisma nei processi e il terzo punto appunto è ritrovarci nei progetti concreti per costruire e ricostruire il mondo che a partire dalle parole e dall'aiuto ai più poveri attraverso l'amore evangelico ne possiamo dare e da qui noi rinasciamo e risorgiamo come chiesa. Circa 130 operatori pastorali presenti hanno partecipato a questo momento di riflessione molto interessante sull'enciclica Fratelli Tutti, è stato un modo per rileggere la nostra esperienza, l'esperienza della nostra chiesa alla luce di questo importantissimo documento di Papa Francesco. Abbiamo riflettuto in particolar modo sulla necessità di costruire percorsi di pace, di recuperare una dimensione politica che significa impegno concreto nell'incarnare la nostra fede nei problemi della gente di oggi e anche di recuperare una capacità di comunicazione che sia positiva, che sia capace di costituire un antidoto nei confronti di un veleno che è dato dalla mancanza di speranza dei nostri giorni. Grazie.